Cosa? Ciccio Gamer è in pericolo e questa volta è innocente? Flamezone mettimi in contatto con lui via Skype Uè Ciccio, sono Mr. Flame Sei in grave per... No 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 aspetta Ciccio aspetta Ciccio non scappa Ciccio aspetta AAAAAA CAZZO Alfonso? E chi cazzo è Alfonso? Trovami delle immagini che me possono faccia capì co' chi c'hè ma che fa' Adesso Blur tornateli in palestra perchè su Youtube ci penso io, ok? Ciao, ciao, ciao AAAAAAAA è la per voi regà dal vostro stile insieme a rubin no e a tutubi tutubi che siete tanti? no lo so siamo qua riuniti per un fatto increscioso so tu tannappi a sti tu e dopo tanto tempo volevo salvare il carissimo Ciccio Gamer 89 che si è pentito delle sue gesta ma non ha ben chiaro il concetto di bestemmia e qua ci siamo fatti le peggiorisate perché ci abbiamo sentito delle cose tipo Dio mattone ma per me non so bestemmie Dio mattone, Dio yogurt, Dio banana sono tutti D ma di diverse categorie questo è benzina no no io mi do fuoco e siamo qui oggi per parlare del canale di Arfonso HD fa le riprese col cellulare e scrive HD sei un cazzo di genio ma Alfonsino perché sei piccolino piccolino siamo qua sul canale ragazzi perché logicamente dobbiamo fare la reaction ho svegliato papà e mamma sicuramente è mezzanotte e un quarto siamo a casa mia grazie flame guardalo là calama dura un minuto e 06 è una cosa molto inusuale perché a volte i video che ci fai a vedere non hanno 40 minuti tipo quello di parte che si vuole considerare per una volta una reaction a un video guardabile è un minuto andiamo a vedere che dice Alfonso ho già notato il cazzo di cuscino con le due lesbiche The Life is Strange ma chi la vuoi dare a bere sei un tenerone Alfonsino sei un tenerone c'hai Max e Chloe The Life is Strange una storia d'amore tu l'hai giocato alla Vistreggio e allora lo sai bellissimo poi c'è l'altro cuscino con Soler di Dark Souls quello che fa Praise the Sun sei un nerdino sei poi c'è l'emoji del diavolino che bella fashion tutta viola ma andò vai Alfonsino ma andò vai qua stai a parlare con tre romani stai a parlare ciò abbiamo fatto l'esame della stanza ma guardamo l'abbigliamento cacanotta da salute e che ciò c'è da la nonna e fammi il piacere però se vuoi un po' di serietà se vuoi fare il duro col cortellino e poi metti i soci di tu nonna e mettiti una Timberland mettiti una scarpa di alta classe una scarpa di tendenza con i soci da la nonna c'ha le crocs i crocs i crocs le crocs che si però non te le metti nella vita no mai pensa quanto puzzano perché? beh vedi stai c'hai una suturazione importante i crocs sono delle classi si ma c'hanno le prese d'aria prese d'aria chi sei Spider me ne c'ha attacchia i muri uno scemo davanti a 150.000 persone ma dimmi dove abiti dimmi dove abiti che ti sgozzo sotto caso quello cane attenzione guarda che mi demonizzi il video stupido idiota mi vuoi demonizzare il video con la lama con il cortello a parte che sarà finto con quello la c'è c'è Sparmar Filadelfia poi ne stanno parlando tutti come se la gente c'ha le fette di prosciutto davanti l'occhio secondo voi questo ragazzo fa sul serio? ma è un troll ma ti vede lontano è un troll e sta riuscendo nel suo intento è riuscito ad entrare nel canale del flamesonatore di Youtube perché? perché potrebbe offrire un prodotto che fa ridere perché? niente sto a fare un po' dell'atmosfera allarme cringe allarme trollino Alfonsino il trollino manco il nome del canale specificato sai da dire gli rovino la vita però almeno c'ho un incremento di followers che qualcosa di buono gli può portare su Youtube lui ha un incremento di followers mamma mia te compri più follower te che ah no posso dillo dillo no posso dire di Anthony no ma che è? grappa lì ma che è? so di cosa? amico tu o lì amico mio ah no ma tu grattai a palle chi ha capito ha capito attenzione rinvio buffon sono a tiro prova la grappa eccezionale guarda vuoi come prendere il spiro guarda non sei caricato hai visto Laura ha caricato Kaioken ma chi sei? che usciro Kaioken cosa che ha fatto? il cardioken il cardioken il cardioken eccolo buffon rinvio spacca tutto spacca tutto era così mi sono sbagliato io ho fatto così oh ma perdono devi morire soffrendo il più possibile voleva essere virile per annacarci il cuscino dell'ivistrange con le ragazzine per annacarci quello lì è il diavolezza è virile lui capito per annacarci in cassonetto un fiamme non lo so poi arriva la mamma che fa è pronto subito subito arriva mamma la fonsina è pronto sicuro ma comunque le ragà specificavano questo qua non è bullismo ma porca puttana lui ci sta lui sta con un coltello e poi dobbiamo noi no io lo specifico e poi i moralisti cioè noi stiamo parlando di un palese troll ti pare io lo tratto seriamente famose una risata levatevi la scopa dal culo come la sabri gamer e fatevi una risata giocata a minecraft attenzione preparati preparati a riceverla a una denuncia perché non hai scuse per difenderti figlio di troia non hai scuse è il karma questo ok denuncio te e quella merda di ciccio game 89 che c'entra ma poraccio che c'entra lui vi denuncio tutti e non avete scuse per difenderti con quanta cattiveria comunque mazza al fonsino a cattipo al fonsino a cattipo al fonsino a cattipo al fonsino e noi stiamo fuori come un barcone scrivendo chi vince non perde no? sotto i miei video scrivendo chi vince non perde sicuramente è sicuramente è sicuramente è sempre qua che hanno tirato la salute è sempre i uccini mister bin c'è in armadio che gli stessi vestiti no ma questo mi pare che cosa anima c'è sempre qua la facetta in testa c'è i funghi in capoccio sei rambo invece guardate un po' come è andata a finire un canale me lo avete chiuso l'altro l'ho aperto uno proprio ieri guarda un po' quanti iscritti c'ho guarda un po' quante visualizzazioni non si può non vedere non sono visibili non sono visibili iscritti scusami al fonsino allora Rubino c'ha un milione di iscritti che gli vogliamo dire chi è che lo può contestare che ragionamento è? voi invece bambini ritardati che non avete niente nella vita non avete successo non avete ma è un trollino c'è si troppo paleso comunque troppo pesante cioè se capisce che sta a far per finta già che l'hai imbastito un po' meglio potevi sembrare un caso umano però mo no i video nemmeno sono monetizzati quindi nemmeno ci fai i sordi ti stai rovinando praticamente la reputazione per far deficiente cioè non ha senso mica c'hai 12 anni quanti c'hanno a 20 18 19 tu stai interpretando un personaggio su youtube mi sto immaginando il video di lui che tra l'anno farà il documentario tipo sarà in giacca e cravatta no perché io ho interpretato per un anno intero questo personaggio sicuro guarda farà tipo prepararsi il culo è un esperimento sociale vero Alfonsì io mo ce l'ho pure con qualcuno che ci ha fatto il video che dovete avere cervello al culo come i ragni per non capire che è un troll è palese il miglior youtuber italiano porco che sei accecato è triste il miglior youtuber italiano beccane o sai recitare cioè fino a mo ho recitato abbastanza bene ma mo questa scena proprio voleva fare un po' più un po' più di pathos ci vuole la mente ma no ha fallito il pathos hai fallito miseramente ha fallito sei credibile come dette da cipriani se hai le palle Alfonsino rispondi al trio e viaccia a di che non sei un troll ma chi te crede a chi vuoi piangere noi e mi seguite è certo ma c'ha la pistola corcoso rosso di G.I.G.U ma che è questa di nave dove c'è l'antipop aspetta frase e fa sparare 300 come si fa ma che ma che te sei fumato il galbanino ciao ragazzi sono Fernando un amico che modifica i video ad Alf molte scene ho dovuo cancellarle perché c'è sia per Youtube ma cosa scrive ho dovuo ma chi è Fernando ma tutti i nomi sobri c'hanno il video ad Alf Alfonso e Fernando due tipi dell'anni 50 Alfonso la miglior la miglior la miglior prossimamente nelle tendenze di Youtube ma poi c'è il poster di Ariana Grande ma che c'è 13 anni ma che sei una bambina con i primi peletti ascolta Ariana Grande oddio adesso Blur trovate in palestra perché su Youtube ci penso io ok ciao 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 ma come te sei permesso che sacrilegio insieme hashtag io scrivete qua sotto 50 commenti a testa hashtag Alfonsino levate la maschera 50 commenti a testa qua sotto poi c'è sempre la stessa canotta ma si vabbè quella ormai è tatuata tutti i bambini che lo seguono faranno che scemo stai qua verranno a commentarmi perché non è questo il suo intento capimilo come l'ipocrisia se siete dei bambini ritardati è uno dei pochi che fa sti video pillola lo date un minuto e te scassa proprio il cazzo ma dopo un po' hai rotto le palle ma quanto vuoi durare su Youtube voi quanto gli date di vita al suo canale lo scema del 2018 fai soldi fa successo fa soldi eh con i video che non sono monetizzati fai soldi fai serate buffone fai simone treo fai se perde solo tempo ma che stai fa ma che vuoi fare vuoi fare le serate in discoteca come saluto a Antonio sta qua solamente con la speranza di diventare un pagliaccio un fenomeno da baraccone come è stato saluto a Antonio poi fai soldi quanto te pare a parte che a quei livelli non ci arrivi poi continua quanto te pare però secondo me te stai da solamente la zappa sui piedi perché è palese che sei un tronco il pagliaccio come saluto a Antonio che viene pagato 5000 euro pena serata non ci riuscirai mai ok ci hai fatto fa una risata a noi farai fa due risate a quelli che te esegono farai crescere un paio di canali e fa pure le visual a chi è morto però oltre questo da offrire c'è veramente poco quindi alla prossima Alfonsino e cambiate sta cazzo de canotta e anche oggi il flame è stato fatto lasciate qua sotto un commento che mi fate sapere quello che ne pensate iscrivetevi al canale altrimenti siete dei stupidi lascio la parola ai miei due compari Alfonsino la sfida è aperta ok c'è c'è qua i tre veri flamer non te che sei un pivello Alfonsì se vuoi far quattro l'everposter d'Ariana grande bella per voi ragazzi e becchiamo alla prossima e accogliete il dono della flamezone noooon 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 noooon